Un saluto dalla redazione del Tg della Mobilità. In Viale Liege è cominciata questa mattina la seconda fase degli interventi di potatura. Giardinieri sono in azione nel tratto compreso tra via Bellini e via Salaria. Saranno in azione sino a venerdì nella fascia oraria 7.17. Per quel che riguarda il trasporto pubblico sono deviate su percorsi alternativi tre linee di bus. Si tratta delle linee 53, 53D e 360. Prevista anche una modifica per le linee tram 3 e 19. In particolare la linea tram 3 viaggia su bus lungo l'intero itinerario. Mentre la linea tram 19 viaggia su bus tra Porta Maggiore e Piazza Risorgimento. Aggiornamenti su Roma Mobilità.